Sant'Anna è una piccola comunità, una comunità che fa parte del territorio di Isola Capurizzuto. Trattandosi di una piccola realtà del sud, come in tante realtà, soffre di quegli annosi problemi come la disoccupazione, il lavoro nero, la criminalità. Lì a sede è il secondo campo di prima accoglienza più grande in Italia. Oggi noi all'interno del centro abbiamo 1457 ospiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.